salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono un po' impiccato qua sulla mia scrivania perché perché sto per portarvi sul canale la recensione di lui un monitor 32 pollici della ktc ragazzi love coast che mi ha impressionato in maniera incredibile sì perché normalmente è facile impressionarsi quando si acquista un prodotto top di gamma del marchio top di gamma lì allora a quel punto ci impressioniamo al contrario quando il prodotto non mantiene quello che ci viene dato ma quando si acquista un prodotto love coast come in questo caso un monitor curvo da gaming 32 pollici 2k e il risultato a livello di performance di quello che state utilizzando vi lascia sbalorditi a quel punto capite di aver acquistato un prodotto incredibile come vi ho detto lui è un monitor che costa circa 200 euro lo potete trovare su geek buying che vi lascio qua sotto link in descrizione dove potete appunto andare a visionarlo guardare le caratteristiche e se vi interessa poterlo acquistare da questo link geek buying sta per lanciare poi una campagna di sconti che vanno dal 18 settembre al 28 settembre quindi un periodo di saldi dove lui probabilmente sarà ad un prezzo ancora più basso ma detto tutto questo direi a questo punto di andare a vedere cosa troviamo all'interno della confezione quando vi arriva a casa questo KTC 32 pollici curvo monitor da gaming andiamo a vedere abbiamo la staffa da fissare dietro al monitor quella che serve ovviamente se usiamo la staffa d'appoggio per scrivania o tavolo abbiamo sempre la parte di staffa che va fissata sotto al pezzo che abbiamo visto per tenere appoggiato il monitor sulla scrivania questa staffa a v di metallo dopodiché abbiamo l'alimentatore ed infine abbiamo un altro sacchetto dove al suo interno troviamo un cavo display port troviamo il cavo dell'alimentazione da collegare all'alimentatore troviamo le viti di fissaggio della staffa che abbiamo appena visto di tutto il suo porto da tavolo ed infine abbiamo un manuale di istruzioni semplice con le spiegazioni di come montare la staffa da tavolo che abbiamo appena visto ed infine come ultima cosa abbiamo un cacciavite a stella e sotto a tutto questo polistirolo abbiamo il nostro monitor della KTC 32 pollici curvo guardate che bello che è ragazzi spettacolo andiamo a sfidare dalla sacca protettiva devo dire tanta roba tanta tanta roba qua sotto abbiamo le prese di connessione abbiamo la presa dell'alimentazione una presa usb abbiamo due prese hdmi due prese display port e una presa per le cuffie in questa parte dove andremo a montare la staffa di fissata per il supporto da scrivania abbiamo anche la possibilità di andare utilizzando questi quattro fori andare a montare i nostri supporti con attacco vesa ed eccolo qua in tutto il suo splendore il KTC H32 S17 un monitor da gaming curvo da 32 pollici 2k ragazzi questo monitor mi ha impressionato in maniera incredibile perché ovviamente come vi stavo dicendo inizio video il prezzo che è di circa 200 euro ragazzi lo rende un monitor incredibile in un rapporto qualità prezzo pazzesco e ripeto pazzesco questo monitor è dotato di quattro prese di collegamento abbiamo due prese hdmi e abbiamo due prese display porte all'interno della confezione abbiamo visto che abbiamo anche un cavo display port per poter collegare appunto questo tipo di connessione altrimenti se il nostro pc non è dotato di questo tipo di connessione abbiamo comunque due hdmi poi abbiamo una presa usb per quanto riguarda l'aggiornamento del software quindi serve solo a quello e poi abbiamo una presa jack per le cuffie adesso andiamo a parlare di quello che sono le sue caratteristiche a livello di pannello come vi ho detto lui è un 2k e quando è collegato in 2k è collegato con la display port come tipo di connessione alla nostra scheda video del nostro pc a quel punto riusciremo ad arrivare fino a 165 hertz per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento che può arrivare anche fino a 170 andando a fare l'overclocking che il software che c'è all'interno del nostro monitor ci dà la possibilità di fare mentre se usiamo la connessione hdmi la frequenza di aggiornamento sarà fino a 144 hertz che comunque ragazzi sono dati importanti se li valutiamo poi in un monitor ragazzi in questa fascia di prezzo per quanto riguarda le altre sue caratteristiche del pannello lui è un pannello e led quindi l'evoluzione dei pannelli a led dopodiché ha l'hdr quindi un'altra cosa veramente assurda valutato in questa fascia di prezzo avere l'hdr non è una cosa così scontata il pannello è una profondità di colore da 8 bit ed è in grado di riprodurre 16,7 milioni di colori il suo angolo di visione è di 178 gradi quindi ragazzi è un pannello questo monitor della ktc secondo me è davvero davvero impressionante valutato in 200 euro a me ha impressionato in maniera incredibile anche la risoluzione in 2k è davvero davvero pazzesca tutto il suo software per quanto riguarda le impostazioni gestito da un piccolo joystick che abbiamo qua dietro che anche un pulsante d'accensione e spegnimento andando la premere vedete entrate nel menu per quanto riguarda le impostazioni abbiamo anche la lingua italiana che dobbiamo selezionare ma è disponibile quindi abbiamo le possibilità di configurazione del display luminosità contrasto equalizzatore del nero o dei preset pre impostati e la nitidezza poi qua abbiamo il colore quindi la tipologia di tonalità di colore che vogliamo utilizzare quindi abbiamo gamma tonalità saturazione filtro luce blu un'altra cosa che ha questo monitor il filtro della luce blu veramente interessante e poi abbiamo configurazione di gioco quindi abbiamo anche il free sync che possiamo andare a attivare perché lui è compatibile con amd free sync o con il g sync quindi un altro aspetto interessantissimo appunto per chi gioca avere questa compatibilità con amd o g sync per le altre tipologie di schede quindi veramente interessante anche questo aspetto dopodiché qua abbiamo altre possibilità di configurazione tra cui anche come vedete l'hdr che possiamo andare a spegnere o lasciare in automatico dopodiché abbiamo altre impostazioni poi ritornando sempre indietro qua abbiamo l'input quindi da dove vogliamo che venga prelevata la sorgente che lui trasmette possiamo lasciare attivato auto quindi selezionerà lui la sorgente o andare a selezionare noi manualmente la sorgente se display port 2 display port 1 hdmi 2 hdmi 1 dopodiché abbiamo impostazioni sistema dove abbiamo la lingua che vi dicevo che dobbiamo andare a selezionare vedete italiano per avere il menu in italiano ed è anche questo un aspetto interessante avere il menu in italiano in un monitor comunque a basso costo dopodiché abbiamo configurazione usd appunto questa configurazione l'audio e poi abbiamo aggiornamenti usb nel caso dovessimo avere appunto degli aggiornamenti da fare a livello firmware se il produttore ce li renderà disponibili quindi ragazzi questo è tutto quello che abbiamo a livello di gestione tramite il suo software e adesso per farvi rendere conto della qualità video di questo monitor anche se ovviamente qua in studio da una telecamera è difficile farvi percepire la qualità la definizione è praticamente impossibile vi dovete fidare di quello che vi dico io per quanto riguarda veramente la definizione il dettaglio i colori e anche la frequenza di aggiornamento che è veramente fantastica per un monitor in questa fascia di prezzo lui è possibile utilizzarlo con il suo stand che è questo che ha lo sgancio rapido perché poi potremmo andare ad utilizzare un attacco vesa quindi il classico attacco tipo questo per intenderci per andarlo a fissare ad un supporto appunto con attacco vesa quindi abbiamo doppia possibilità anche perché il sistema che ha questo monitor per quanto riguarda andare a rimuovere il supporto da scrivania è veramente semplice a uno sgancio rapido quindi non ha vitti non ha niente ha uno sgancio rapido che ci permette di andare a rimuoverlo veramente in pochi istanti sì perché io questo monitor curvo lo utilizzo per i giochi di simulazione dove lo trovo veramente incredibile perché il monitor curvo secondo me è pazzesco nell'utilizzo nei giochi di simulazione di guida soprattutto poi un 32 pollici come questo rende veramente i giochi di guida ancora più immersivi quindi io normalmente ce l'ho rimosso da questo supporto e ce l'ho fissato sulla postazione di guida infatti tra poco vi faccio vedere appunto anche questo passaggio ma detto questo adesso direi di far partire un gioco e vedere come si comporta questo monitor da 32 pollici della ktc curvo hdr 2k perfetto ho fatto partire good of wars e ho spento qualche luce per vedere di riuscire a trasmettervi al meglio quello che si vede all'interno di questo pannello perché comunque è difficile trasmettere quello che è la risoluzione della qualità video di un monitor come in questo caso 32 pollici curvo trasmettervelo attraverso le riprese video di una telecamera è davvero molto complicato però non è detto che ci riesca a pieno a trasmettervi realmente quello che è la qualità video però ragazzi è pazzesco la definizione in 2k devo dire che è veramente veramente fantastica per quanto riguarda proprio quello che è il dettaglio e anche i colori secondo me è davvero adesso sto morendo mi sta succedendo di tutto devo dire che è veramente veramente impressionante e ancora di più lo trovo impressionante essendo un monitor curvo poi quando lo vado a posizionare nella mia postazione di simulazione di guida lì ragazzi è impressionante davvero 200 euro e probabilmente quando jigbung farà i saldi dal 18 al 28 settembre lì è molto molto probabile che lo andiate a pagare ancora meno e ragazzi vi assicuro che è impressionante impressionante in questa fascia di prezzo io non l'avrei mai mai detto e come vi ho detto a inizio video quando una cosa non la pagate tanto e vi sorprende in qualità ragazzi è lì che avete fatto l'acquisto l'acquisto giusto quindi adesso direi di andare a rimuoverlo da questo supporto da tavolo e vediamo come si aggancia rapidamente un supporto VESA come in questo caso per la mia postazione di guida quindi adesso smontiamo il tutto ed eccoci ragazzi nella simulazione di guida in questo caso il gioco che sto utilizzando è le Manu Ultimate uno degli ultimi giochi di simulazione di guida arrivati sul mercato probabilmente il migliore attualmente a meno dal mio punto di vista ho uno dei migliori sicuramente e ragazzi questa è la qualità che riusciamo ad ottenere con un gioco di questo tipo in questo caso lo sto utilizzando in 2k 165 Hz per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento e devo dire ragazzi che è davvero notevole poi comunque i monitor curvi ci danno un'immersione incredibile nei giochi di guida quindi davvero ci fanno fare uno step in più nell'immersività rispetto al monitor piatto davvero davvero fantastico quello che riusciamo ad ottenere con un monitor di questo tipo se poi lo valutiamo che ragazzi costa circa 200 euro è pazzesco come vi ho detto è un pannello LED quindi l'evoluzione dei pannelli a LED ma davvero davvero qualcosa di incredibile sia per i colori che sono molto realistici sia per la risoluzione la qualità davvero tutto notevole ragazzi guardate giudicate voi anche se come vi ho detto non so se riesco a trasmettervi quello che vedo io con i miei occhi rispetto a quello che è in grado di fare la telecamera che lo sta riprendendo quindi detto tutto questo a questo punto direi di tornare in studio per tirare le conclusioni finali di questo KTC monitor 32 pollici 2k curvo con HDR quindi ragazzi avete visto in azione lui il monitor della KTC H32 S17 un monitor da gaming 32 pollici curvo con HDR 2k e frequenza d'aggiornamento che arriva fino a 170 Hz quindi ragazzi qualcosa di impressionante se pensiamo che lo andiamo a pagare circa 200 euro vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche i coupon sconto se riesco a recuperarli e ricordatevi anche che appunto essendo venduto su Geek Buying uno store veramente gigantesco per quanto riguarda prodotti di tecnologia e non solo che appunto questo store dal 18 settembre al 28 settembre saranno appunto 10 giorni di offerte in queste offerte probabilmente ci sarà anche lui e magari il prezzo sarà ulteriormente abbassato quindi ragazzi mi raccomando guardate qua sotto il link in descrizione e tenete d'occhio questo monitor perché secondo me è davvero pazzesco andare ad acquistare un monitor con queste caratteristiche e a questo prezzo ve lo posso garantire qualcosa di incredibile non so se sono riuscito a trasmettervi la qualità del pannello perché come vi ho detto con la telecamera è difficile farvi appunto vedere il dettaglio la qualità, la perfezione che si riesce ad ottenere da un prodotto anche low cost come questo io spero di sì, ho cercato di fare il possibile per trasmettervelo e se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tanto novitante prima e spoiler dei prodotti che arrivano qua sul canale e tantissime cose riguardante la simulazione arrivano su Instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale quindi anche di lui sicuramente troverete il link sul mio canale Telegram Offerte che qua sotto in descrizione e vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram usati poco da un nerd e mezzo dove posto tutti i prodotti che non tengo per me perché ovviamente non posso tenere tutto e li vendo ragazzi a prezzi veramente veramente bassissimi potreste trovare il prodotto che stavate cercando ad un prezzo super super stracciato alla fine sono prodotti praticamente nuovi dove sono stati utilizzati solo per la recensione e dopo tutto questo quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione come questa, un tutorial o una novità ciao e al prossimo video